Ciao a tutti gente, io sono Dili, benvenuto, bentornati sull'altro fumetto e benvenuto a un video molto 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 particolare. Questo perché? Perché un po' di tempo fa ho fatto questo video qua, ovvero i 20 tipi di recensori di fumetti, in cui mostravo 20 categorie differenti di recensori di fumetti. Ovviamente era un video ironico, esattamente come sarà un video ironico anche questo. E in questo video invece esamineremo 30 frasi che vengono utilizzate da chi recensisce fumetti. 30 frasi che però nascondono dei significati nascosti che andremo a vedere proprio in questo video. Quindi nel ripetervi che questo è un video ironico, quindi mi raccomando non ve la prendete, cominciamo subito. Io sono un appassionato di fumetti, non un esperto. Se dico cazzate e sbagliate non potete dirmi niente, io vi ho detto che non sono un esperto. Questa cosa però reentra molto nei miei gusti personali. Non potete rompermi troppo i maroni, i gusti sono gusti, quindi fine del discorso. Il disegno è complesso ma chiaro. Oh, io non capisco nulla di disegno quindi non riesco a farvi un'analisi più strutturata del disegno, però è pieno di particolari, si capisce tutto, quindi ok. Sì, questa io la uso tantissimo. L'opera è molto sfaccettata e si presta più piani di lettura. Io ci ho visto solo mazzate, però se ci vedete qualcosa di più, buon per voi. È un'opera che vorrò sicuramente rileggere per cogliere tutte le sfaccettature della trama. Oh, io non ci ho capito veramente nulla della trama, però un po' miro ad ammetterlo. Mi piacerebbe rileggerlo, ma non lo farò mai. Ricalca perfettamente gli stilemi classici del genere. È sempre la stessa cosa già letta mille volte. I personaggi sono ben caratterizzati e sfaccettati. Oh, non so bene cosa dire, questo ci sta sempre. La trama è coinvolgente e ti incolla le pagine. Oh, non so bene cosa dire, questo ci sta sempre. La palette di colori è perfetta per il tipo di storia narrata. Oh, non so bene cosa dire, questo ci sta sempre. In più, io non ho neanche ben capito che colore sia tipo il Terra di Siena, quindi che cacchio ne so io. Il finale forse mi ha lasciato alcuni dubbi, ma non voglio farvi spoiler. Il finale è una merda, ma non voglio inimicarmi la casa editrice e chi l'ha scritto. Sicuramente ci ho visto l'ispirazione di autori come Gaiman e Moore. Butto lì qualche nome grosso per darmi un tono, ma in realtà io non ho letto nessuna opera di nessuno dei due. Avrei gradito una maggiore caratterizzazione a livello grafico dei personaggi. Che cazzo, i personaggi sono tutti uguali, ho passato metà del volume a pensare che il protagonista fosse il padre di se stesso. Un'opera che non potete assolutamente lasciarvi sfuggire se siete dei veri appassionati di fumetti. A me è piaciuto, il mio parere è sacro, se non lo prendete vuol dire che non capite niente. Gne gne gne. Un fumetto che mi ha fatto impazzire, un capolavoro del mondo del fumetto che non potete assolutamente lasciarvi sfuggire. Ho questo il primo fumetto che una casa editrice mi manda gratis, quindi devo assolutamente convincervi a leggerlo, oppure rischio che poi non me ne mandi più. Sicuramente il ritmo della narrazione c'era l'essenza stessa della storia. E la dinamica stessa degli sguardi e del conflitto non fanno che dare forza al peso della narrazione. Sì, la butto in supercazzola per darmi un tono ma non farvi capire assolutamente nulla. Ho trovato la trama veramente molto interessante. Oh, non so bene cosa dire, questo ci sta sempre. Un volume che intrattene veramente molto bene e che ho letto con grande piacere. Oh, sentite, sono 15 anni che parlo dei fumetti sempre uguali, non so più che inventarmi, ok? Probabilmente il fumetto più bello che io abbia letto quest'anno. Qui su YouTube è una gara che la spara più grossa e io non voglio essere da meno. In più non vi fa strano il fatto che io ripeta questa stessa identica cosa tipo tre o quattro volte al mese? Un volume che purtroppo in pochi hanno realmente capito. Io sono intelligente e voi no. Gne gne gne. Ma la storia non è niente di che, quindi non ve ne parlo oltre. Evito di argomentare come mai la storia non mi sia piaciuta, altrimenti qualcuno di voi potrebbe ribattere e poi io non sarei in grado di motivare le mie ragioni. Io mi chiedo come sia possibile che nel 2022 ci sia ancora gente che legga Tex. No, niente raga, io sul serio non riesco a capire nel 2022 come sia possibile che ci sia ancora gente che legge Tex. Il prezzo un po' alto è totalmente giustificato dall'edizione splendida e molto curata. Il prezzo un po' alto, per voi, a me l'ha mandato gratis la casa editrice. Il ritmo incalzante e le scene d'azione reggono da sole tutta quanta la narrazione. La trama è profonda come una pozzanghera. Ho grandi aspettative per come continuerà e si concluderà quest'opera. Se anche sto manga svacca male, è la volta che faccio a Rakhiri. Oggi vi dirò tutta la verità sul fumetto che è il fenomeno del momento. Sì, in realtà non ho nulla di originale da dire che non sia stato già detto tipo 200 volte, ma è di moda e a me piace far salire gli scritti in maniera facile. La trama scorre perfettamente. Nel procedere tutti i nodi vengono al pettine e nulla è lasciato al caso. Oh, non so bene cosa dire, questo ci sta sempre. Le scene di violenza non mancano, ma non sono mai gratuite o troppo esplicite. La casa editrice ha palesemente evitato di mettere scene più forti perché sennò non avrebbe potuto vendere il fumetto ai ragazzini. E in questo numero c'è un enorme colpo di scena nella vita del nostro supereroe che mi ha sconvolto. E in questo numero c'è un enorme colpo di scena nella vita del nostro supereroe che mi ha sconvolto. Ma tanto sappiamo tutti quanti che tra una decina di numeri tutto tornerà come prima, quindi ho poco da fingere entusiasmo. Ed è per questo che questo fumetto è una vera chicca dell'autoproduzione. Un fumetto difficile da reperire, ma assolutamente da avere. Sì, in realtà non è nulla di che, è anche un po' banalotto, ma ho la puzza sotto il naso e quindi me la tiro solo perché leggo fumetti di nicchia. Sto per dirvi qualcosa di molto forte, qualcosa che vi sconvolgerà, eh. Per questa cosa che sto per dirvi vi dico solo che mi farò un sacco di nemici, ma è giusto che voi sappiate la verità su questo fumetto. Vi supplico, guardate i miei video, che non mi caga nessuno. E con questo è tutto. Ditemi voi delle frasi che secondo voi utilizzano le persone che recestiscono fumetti. Scrivetemelo nei commenti e scrivetemi secondo voi cosa significano veramente. Spero che il video vi abbia strappato almeno una risata. Spero che nessuno si sia offeso per ciò che ho detto in questo video. Se per caso qualcuno si è offesi anche un po' sti cazzi. Cioè, mi dispiace, mi dispiace, però su, facciamo un po' di autoironia ogni tanto. Che male non fa? Mi raccomando, iscrivetevi a questo canale. Sotto trovate anche la mia pagina Facebook, il mio profilo Instagram. E noi ci vediamo alla prossima. Oggi vi dirò tutta la verità sul fumetto che è il fenomeno del momento. Sotto trovate anche la mia pagina Facebook.